Un saluto agli amici del blog IlMonti.com. Lo confesso che Oscar Giannino mi è sempre piaciuto. Il suo eloquio brillante, incisivo, irriverente, incalzante, ma poi le sue invettive contro la politica immobilista, statalista, lo Stato ladro, ladro e sprecone, ma persino l'audacia con cui sfoggiava i suoi completi davvero bizzarri mi hanno sempre affascinato. Questo però era l'Oscar Giannino brillante giornalista, conduttore radiofonico, dopodiché è giunta l'ora del Giannino politico. Gli uomini di fare per formare il declino si vantano, tra le altre cose, di essere gli unici che parlano di numeri e che mettono i numeri nel loro programma. E questo è indubbiamente vero. Infatti hanno prodotto lunghe schede di approfondimenti, corredate da grafici, formule matematiche. Ricordo la mattina del 4 febbraio, in diretta a Onibus su La Sette, Giannino, che era stranamente indisponente, inveire addirittura contro Franco Becchis, il giornalista Franco Becchis di Libero, che stava raccontando la difficoltà che aveva avuto la figlia nel leggere e comprendere queste lunghe schede, Giannino rispondeva a Becchis dicendo Ma come vogliamo educare gli italiani se gli diciamo che leggere è troppo complicato? Beh, devo dare ragione a Giannino. E infatti mi sono messo di buona lena e ho letto, ho iniziato a leggere le schede di fare per fermare il declino. Sono partito dal primo capitolo, che è intitolato Ridurre il debito pubblico. La proposta è quella di abbattere il debito pubblico alienando il patrimonio immobiliare dello Stato. E a quanto monta questo patrimonio immobiliare dello Stato? Bene, sulle schede di FID, quindi fare per fermare il declino, viene citato testualmente Il patrimonio pubblico alienabile viene stimato in modo conservativo nel range 72,420 miliardi di euro. Beh, mi domando quale valore posso avere una stima che comprende una forbice di errore di 350 miliardi di euro su un totale di 420. Ma andiamo avanti. Viene comunque stimato un valore degli immobili che potrebbero essere venduti per abbattere il debito. Si dice nei prossimi sei anni. Ed è quantificata nella cifra di 105 miliardi di euro. Ma di chi sono questi immobili che si vogliono vendere, oltretutto partendo subito dal 2013? Per scoprirlo andiamo a leggere le 54 pagine che compongono la scheda di approfondimento. E a pagina 24 troviamo riportato Reviglio, quindi si cita una stima del professor Reviglio, stima che solo 7 miliardi della parte libera, quindi non gli immobili occupati da qualcuno, degli immobili appartengono allo Stato centrale. Quindi solo 7 miliardi sono di proprietà dello Stato. E mi domando i restanti 98 miliardi che si vorrebbero vendere nei prossimi anni di chi sono. E lo andiamo a leggere poco più avanti, dove si dice mentre la parte del leone, fra i proprietari, la fanno i comuni con 25 miliardi di euro di questi immobili e il resto è posseduto da province, regioni e altri enti pubblici. Ricapitoliamo quindi a grande linea la proposta. Si pensa di abbattere il debito pubblico vendendo 105 miliardi di euro di immobili in soli 6 anni e confiscando gran parte di questi immobili agli enti locali. E direi, alla faccia di voler fermare lo Stato ladro. Io sarò pure un trinaricciuto leghista per dirla alla Guareschi. Per quale motivo, mi domando, dovremmo vendere gli immobili dei nostri comuni, delle nostre province, delle nostre regioni per finanziare uno Stato sprecono? Uno Stato che probabilmente sprecherà e creerà debito anche nei prossimi anni. Qui, alla faccia del federalismo che vorremmo raggiungere, qui si tratta di depredare addirittura i comuni per pagare gli sprechi generati dallo Stato centrale. Io direi una roba così centralista che nemmeno Napoleone sarebbe mai riuscito a fare tanto. Poniamo comunque il caso che rispondano a qualche logica questa idea di voler vendere il patrimonio in maniera forzosa anche degli enti locali. Come si è detto, il programma prevede di mettere sul mercato circa 17,5 miliardi di euro di immobili ogni anno, che in sei anni vanno a determinare, o andrebbero a determinare, la cifra di 105 miliardi di euro che è posta come obiettivo minimo dagli uomini di fare. Perché si parli di sei anni quando una legislatura ne dura cinque? Beh, questo non è dato sapere, ma adesso non ci interessa nemmeno approfondirlo. Ci interessa sapere quanto è credibile questa promessa. Andando a leggere i dati del rapporto immobiliare 2012, realizzato dall'Agenzia del Territorio, scopriamo a quanto ammonta il volume totale delle vendite realizzate in Italia nel 2012. Tra l'altro non abbiamo ricordato che gli uomini di FID nel loro programma prevedono di modificare anche la destinazione urbanistica degli immobili dello Stato. E questo alla faccia della fatica con cui i comuni hanno elaborato in questi anni le politiche di pianificazione urbanistica. Ma questo è un altro discorso. Dicevamo i dati. Nel 2011 sono stati venduti immobili residenziali pari a 62 milioni di metri quadri, che sommano un valore stimato di circa 101,9 miliardi di euro. Il volume di scambio invece degli immobili non residenziali è di circa 18,9 miliardi di euro. Ciò significa che l'insieme degli operatori italiani del mercato immobiliare vendono circa 120 miliardi di euro l'anno. E lo Stato, secondo la proposta di Giannino, dovrebbe essere capace da solo di vendere 17,5 miliardi di euro l'anno di immobili. E tra l'altro già a partire dal 2013, quest'anno. E sapendo che il 90% di questi immobili non è nemmeno di proprietà e nella dismobilità dello Stato, ma è invece di comuni, province e regioni che non saranno così felici di svendere il loro patrimonio allo Stato. Boom! Per dirla un po' alla Giannino. Ma scusate, ma di cosa stiamo parlando? Ma questa è la più pirotecnica delle balle elettorali che io abbia mai sentito. E Berlusconi è confronto, è un vero dilettante. Ma è curioso che proprio Oscar Giannino, anche quella mattina con Franco Becchis, sulla 7, in maniera irridente, simpatica e riverente, dileggiava e prendeva in giro Berlusconi, che aveva promesso alla restituzione dell'Imu, bollandola come una balla, una promessa irrealizzabile. E' curioso perché proprio Giannino sa che l'Imu vale solo 4 miliardi di euro circa sulla prima casa e quindi non è poi questa grande cifra. E soprattutto non tiene conto che la maggioranza di centro-destra, se vogliamo parlare di promesse mantenute, nel 2008 tolse l'ICI sulla prima casa, così come aveva promesso nel programma elettorale. Insomma, il programma di fare funziona molto bene, questa è la mia impressione, a livello matematico, con i conti, con l'equazione. Chi l'ha stilato sono sicuramente i professori, preparatissimi. La differenza però evidentemente tra la teoria e la pratica è un'arte che non si apprende sui banchi di scuola o nelle aule universitarie. Piuttosto si riesce a imparare più nelle botteghe, negli uffici, nelle fabbriche, nei capannoni come quelle di tanti imprenditori e piccoli imprenditori lombardi e padani. Votati invece al sano realismo. E allora, caro Giannino, l'unica vera proposta per combattere lo Stato ladro, come lo chiami tu, per costringere amministratoni e denti spreconi a ridurre la spesa, perché questo è l'obiettivo, o se vogliamo dirla in maniera più semplice, per affamare la bestia, come diceva il compianto Ronald Reagan, è soltanto una la proposta vincente, quella di trattenere il 75% delle tasse laddove sono prodotte, per poi quindi ridurre la pressione fiscale. Semplice, lineare, risolutivo. Questa è la proposta della Lega Nord. E badate, non è nient'altro che una declinazione diversa dei vari progetti che con fatica in tutti questi anni abbiamo portato avanti, molto spesso in solitudine. Sto parlando della Devolution, affossata purtroppo con un referendum confermativo dagli elettori. Sto parlando poi del federalismo fiscale, purtroppo azzoppato e annientato dal governo Monti quando era lì sul traguardo finale d'arrivo. Che dire, abbiamo perso un ottimo giornalista e abbiamo guadagnato un pessimo politico. Un saluto agli amici del blog ilmonte.com e alla prossima.